ciao e benvenuto su ghiera un giro torno al mondo dell'orologeria sono pietro oggi voglio parlare del main sky master da 38 mm un cronografo bellissimo con caratteristiche super un prezzo assolutamente interessante e quel sapore vintage che possiamo andare a ritrovare solo in certi rolex del passato dove però bisogna aggiungere qualche zero rispetto alla cifra di questo orologio però prima di addentrarci a guardare la video recensione di questo orologio mi raccomando fate un bel like e iscrivetevi al canale in modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti quelli che pubblico gratuitamente e sempre gratuitamente qui su youtube se poi ti piace il video mi raccomando like commenti insomma fammi sapere cosa ne pensi e mi trovi anche in tutti i social media che esistono sulla faccia della terra trovi link in descrizione così come quello per andare se vi piace e scoprire di più di main e eventualmente acquistare main nasce nel 2017 e da quando è nata devo dirvi la verità non parliamo di tantissimi anni in sette anni ha davvero creato una collezione molto ampia con orologi molto diversi e una mentalità quella di proporre orologi del diametro contenuto dove il 38 mm è praticamente il massimo che si può raggiungere taglie diverse però dove comunque la misura piccola la fa da padrone ora guardiamo la video recensione poi facciamo ancora qualche chiacca ed eccoci di fronte al packaging abbiamo una controscatola nera molto semplice ed una scatola sempre in cartone con il logo main dettagli davvero da questo punto di vista al minimo però parliamo di un orologio dove comunque l'essenziale sta proprio all'interno della pochette ovviamente abbiamo anche una piccola pezza per pulire l'orologio card e garanzia in questo vano interessante la soluzione di avere questo porta orologi main dove all'interno troviamo l'orologio aprendo il porta orologio troviamo questa meraviglia davvero incredibile guardate questo orologio è davvero di una bellezza disarmante diamogli un po di carica ed ecco l'orologio in tutta la sua bellezza abbiamo delle sfere d'offen molto sottili che tendono quasi a perdersi in questo quadrante nero con i subcontatori bianchi a contrasto che rendono questo orologio un reverse panda davvero incredibile l'omaggio al daytona è evidente e chiaro ma in questo caso siamo di fronte ad un daytona che non c'è più non è più in commercio e di conseguenza non ci vedo nulla di male in un orologio come questo che va ad omaggiare una delle referenze più belle ed importanti dell'orologeria 38 mm di diametro spessore di 13.5 distanza da ansa di 48 e passo del cinturino da 20 abbiamo un bracciale tra l'altro che si va a rastremare in modo molto interessante in linea con richiamo vintage dell'orologio abbiamo un doppio pulsante semplice una chiusura ben fatta il bracciale molto ben realizzato con questa struttura dove vediamo la parte centrale lucida e la parte invece esterna e ancor più centrale che è completamente satinata come dicevo nella parte iniziale del video le sfere dauphin sono molto belle lucide però si va non può perdere per quanto riguarda l'orologio di conseguenza la lettura non è sempre ottimale meglio invece i subcontatori essendo in bianco con questa sfera nera la lettura è decisamente più semplice siamo di fronte ad un crono e di conseguenza è buona cosa andare a rivedere in funzione la parte cronografica dell'orologio si aziona come sempre col pulsante ore 2 e si va a resettare col pulsante ore 4 quindi facciamo partire l'orologio primo pulsante per stoppare e resettare abbiamo contatori minuti che troviamo a ore 3 e il contatore invece e delle ore che troviamo a ore 6 e assente la parte invece dedicata alla data come possiamo vedere da questa immagine abbiamo una sola scritta main che troviamo ore 12 non sono presenti altri riferimenti come ad esempio al calibro o altri dettagli se non la scritta swiss poco sopra l'indice che troviamo a ore 6 ad animare questo orologio troviamo un calibro a carica manuale il sellita sv510 mb in grado top grade questo cosa garantisce garantisce una precisione di marcia ottima con meno 4 più 4 secondi al giorno ed un calibro che viene non solo decorato come possiamo vedere dai code dalle code genève che troviamo sul sul movimento o il perlage ma dal fatto che viene anche misurato e calibrato bene su cinque posizioni visto che ci siamo il fondello con la chiusura atipica rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in realtà è un semplice fondello a vite infatti la parte zigrinata tipica dei degli orologi di casa rolex della casa coronata ginevrina sono solamente estetici in quanto i punti per andare eventualmente a svitare il fondello sono quelli che sono indicati dalle frecce bellezza e la precisione dei subcontatori è davvero ipnotica guardate voi stessi la precisione con cui sono realizzati tutti i dettagli di stampa e non solo tra l'altro il quadrante è davvero più complesso di quanto sembri infatti come probabilmente avrete già visto ci sono dei piccoli pigmenti luminosi tutti attorno al quadrante soprattutto ovviamente nella parte più esterna bianca con questa texture granulosa molto bella il quadrante che a prima vista sembra di una tonalità unica invece una finitura molto interessante leggermente soleil che possiamo vedere in questa inquadratura dove si vedono i raggi che partono dalla parte centrale del quadrante e si vanno a diramare per tutta la parte esterna gli indici hanno una doppia finitura una parte più lucida esterna una parte satinata interna la precisione devo dire che è buona c'è qualche lieve sbavatura sulle sfere ma niente di eclatante già che ci siamo parliamo della prova al buio abbiamo questo old radium che non dà una grande durata nel tempo e anche la posizione che è stata scelta volutamente quindi avere davvero dei piccoli punti luminescenti non poteva davvero fare di meglio sia per quanto riguarda le sfere sia per quanto riguarda la pigmentazione che troviamo ai lati che stiamo ammirando in questo video accelerato ammirando la corona vediamo che questa è a vite e per un orologio che è a carica manuale non è assolutamente un elemento per me positivo questo però si tratta di un sample quindi un orologio che viene mandato per le video recensioni la versione finale ha invece una corona a pressione e i tasti a pompa che possiamo ammirare sono più corti quindi non preoccupatevi che questo che ho riscontrato essere un difetto non è in realtà presente poi sulla versione finale ma già che ci siamo possiamo vedere la m di main che è lucida su una superficie micropallinata che trovo essere gradevole prezzo di 2099 euro considerando l'orologio e tutti i dettagli che abbiamo visto devo dire la verità mi sembra che sia assolutamente equilibrato io che sono un amante dei cronografi ne ho diversi in collezioni di marchi molto prestigiosi sono stato davvero molto tentato di acquistarne uno e non è detto che in futuro magari in una colorazione un po più particolare davvero non mi scatti la scintilla e non proceda per l'acquisto eccoci spero che il video vi sia piaciuto a me l'orologio è piaciuto tantissimo mi spiace doverlo restituire perché davvero lo vorrei acquistare a quel non so che che mi è piaciuto tanto grazie per aver visto questo contenuto vi ricordo i canali dove entrare in contatto come facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato all'offerta per gli orologi tiktok e il sito ghiera.it ciao ragazzi alla prossima